Le politiche di coesione sono straordinariamente importanti perché sono quelle che fanno la colla del sistema. Il sistema europeo è un sistema che rischia di spararsi molto ai lati, cioè di avere un corpo centrale molto forte e poi molte periferie. Questo non è possibile perché indebolisce tutta Europa. Le politiche di coesione servono per fare coesione, cioè per tenere insieme. Per questo non siamo contenti in nessun modo delle proposte che sentiamo, che accentrano queste politiche solo nei paesi dell'est o in alcune regioni del sud-sud. Le politiche di coesione devono coinvolgere tutte le regioni, anche le regioni come la nostra, che ha dimostrato, primo, il saper usare molto bene i fondi europei, il saper usare per accelerare la crescita, ma soprattutto per tenere insieme tutti i pezzi in questa fase così difficile. Io credo che invece sia importante che le regioni oggi facciano sentire la loro voce anche a nome dell'intero paese. È per questo che abbiamo voluto questa iniziativa in questo momento e direi anche con questa straordinaria partecipazione.